La difficoltà del legato è controllare l'innesco dell'amplificatore e controllare le note che suonano, quindi suonarlo solo clean non aiuta, nel senso che suonare clean il legato quando ti esercitare porta ad avere un eccesso di pressione sulle corde per far sentire la nota, in realtà le corde sono naturalmente sfiorate, se basta che le tocchi suonano, è un'altra cosa del pull off, il pull off possibilmente non è dato da strappare la corda e levare il dito. In realtà è strappare le corde e accoggiare il dito sulla corda di su, in maniera che vediamo sia lontana o troppo dalla città, ci sono degli esercizi che sono fatti apposta per distanziare il meno possibile le corde genetite dalle tasti, adesso non sto qui a spiegarvi perché sono parecchi, però comunque sia chi seguirà il corso sicuramente avrà un modo di spiegare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!